Un po' il ghiaccio ormai è stato rotto con le gare di Coppa e con l'esordio in campionato. Fortunatamente queste gare sono andate bene sia dal punto di vista delle prestazioni che del risultato. È normale che adesso ci approcciamo alla prima gara casalinga in campionato. Una partita sulla carta un po' più difficile delle altre contro una squadra forte, però questo servirà soprattutto per testare ancora meglio la squadra. A proposito della squadra, il gruppo è completamente a disposizione? C'è qualcuno magari in dubbio o comunque sono tutti a disposizione? Problemi particolari non ne abbiamo. È ovvio che bisogna valutare le condizioni dei nuovi arrivati. I nuovi ragazzi sono arrivati ieri, l'altro arriverà oggi. Uno è arrivato ieri e l'altro è arrivato oggi. Quindi di conseguenza soltanto questo. Sennò per il resto stiamo lavorando nella normalità abbastanza bene. Non ci sono intoppi particolari.